Italia è un paese che tutti vogliono scappare What the fuck? Non saprei da dove cominciare Ciao, io mi chiamo Sidney Benvenuto sul mio canale SIDS sul tubo E sulla mia rubrica... Ah 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 Non è la mia rubrica russaliana, appunto i russi di un italiano Perché? Vedete qui una Khrushchevka forse? Eh? Vedete forse una Stalinka? Vedete forse tutto quel degrado Che vi ha fatto tanto indignare nell'uno e nell'altro senso? No Vedete la villa di cui vi parlavo? Adesso Toshio vi racconta che cosa è successo Ma se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi a questo canale E accendete le notifiche Finalmente ci siamo trasferiti in Italia Sì, adesso viviamo nel sud Ed è stata un'avventura di cui vi vorremmo raccontare Non saprei da dove cominciare Comincerei col dire che per lui è un finalmente Per me è un finalmente abbiamo fatto questo passo Perché per me, se devo essere sincera Non c'era un forte desiderio di tornare proprio nel sud E proprio nel mio paese di provenienza C'era sicuramente da anni Da prima ancora di sposarci Il desiderio di lasciare la Russia Questo era ancora prima dell'inizio della guerra E questo desiderio non era dovuto assolutamente al fatto che io in Russia mi trovavo male Perché anzi mi trovavo abbastanza bene Ma al fatto che prima di mettermi con Anton Io non sentivo di essere Io sentivo che non c'era più niente che mi legava alla Russia A parte la mia vita professionale E questa cosa mi rendeva molto triste E avevo bisogno di un cambiamento Perché comunque sono stata tanti anni in Russia E volevo provare a fare qualche altra cosa Dopo aver ricevuto la cittadinanza Perché era una cosa, ve la racconto in un altro video Alla quale non volevo rinunciare Visto che se ne era data la possibilità Poi dopo l'inizio della guerra Abbiamo incominciato a parlare di matrimonio E poco prima del matrimonio Abbiamo incominciato a parlare di un eventuale trasferimento in Italia Che è una cosa che Toscio ha cominciato a desiderare fortemente Siccome muovendoci in due Questo è il posto più semplice in cui possiamo venire Perché lui può avere un visto in quanto coniuge Può avere un permesso di soggiorno E ottenere la cittadinanza in quanto coniuge Abbiamo pensato di ripartire da qui Non è che io avessi una fretta matta di tornare in Italia Ripeto, però date le circostanze Data la tensione che si viene a creare E spesso tu non sai se è una tensione giustificata o no Perché spesso deriva dalle informazioni che ricevi Che a volte non sapere nulla rende le persone più felici Insomma, messa tutta questa tensione Vedendo lui sempre preoccupato Io ho incominciato a desiderare fortemente di andarcene Perché sinceramente svegliarsi ogni mattina E vedere una persona come si dice in russo La dico sta parola Srate Perché non è felice più del lavoro che fa Del posto in cui si trova Delle notizie che legge Del modo in cui sta cambiando il proprio paese Nemmeno io ero felice Dico del modo in cui Molte cose che io vedo adesso in Russia Non mi piacciono Certo si può vivere chiudendo un occhio Ma avendo la possibilità di spostarsi Non per avere di meglio Ma per cambiare aria Perché non è realmente Poi ne parleremo Il posto in cui ti trovi Che fa la tua felicità Però il fatto che magari tu cambiando posto Ti dai delle nuove possibilità Ti dai la possibilità di cambiare prospettiva E questo ti può aiutare ad avere nuove motivazioni E quindi a sentirti meglio Il resto ve lo racconta Toshi Un breve commento Noi ultimamente a Mosca vivevamo In un palazzo di Khrushchev Che avete visto nel nostro video Che anche adesso è il più popolare E questo edificio Che si trova proprio A pochi passi dal punto di reclutamento Per la guerra naturalmente E ogni giorno Vedevamo questi disgraziati alcolizzati Che andavano là Sperando di ottenere qualche soldo dal governo Che dalle notizie sappiamo che Non è il caso sempre Non è che ricevano questi soldi sempre E quindi l'ansia si aumentava Perciò il desiderio di lasciare il paese Si aumentava anche E allora ci siamo finalmente arrivati Al punto di lasciare finalmente il paese Che per me, come hai detto E' vero che è un finalmente E questo va contro gli argomenti Che vediamo tanto spesso nei nostri commenti Oh no, l'Italia è un paese Che tutti vogliono scappare Non è un paese in cui posso vivere Perché ci sono delle cose che non mi piacciono Perciò vado in una dittatura Che bombarda Che uccide bambini Questo non posso dire in una voce Che fa ridere Sì, perciò Le priorità di alcune persone Mi sorprende molto Cosa devo dire? Perché io non so che cosa dire In questo video mi ho detto ad Anton A Toscio prepara delle domande Per me Vabbè volevo fare una piccola parentesi Sì, la dittatura, i uccidi, i bambini Ma non è che come dice mio padre Usa spesso questo Io sarei una linguista poi Mio padre usa spesso questo modo di dire Colare acqua santa dall'ombelico Non è che l'Italia Cole acqua santa dall'ombelico Quindi io Ci tengo sempre Non dico a mantenermi neutra Perché voglio dire Non si tratta di neutralità Però bisogna sempre vedere Cioè adesso è la prima settimana Di Toscio in Italia La seconda settimana Già è finita la prima settimana Voglio dire Lui non conosce ancora l'Italia Che conosco io E vabbè Questo non significa ovviamente E tu non hai mai conosciuto la Russia Che conosco io In parte In parte Questo è vero Però ho vissuto in Russia per 12 anni Non per una settimana O un mese Sì 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 Lo conosco Comunque ci vuole anche di più Sì Dipende dagli ambienti che frequenti Dipende dalle persone che frequenti Sono d'accordissimo Però quello che voglio dire È che io Non sarei per demonizzare O Cioè a me tutte Entrambe queste tendenze Nei commenti Su questo canale A glorificare O demonizzare La Russia Ecco io non approvo Nessuna Di queste due Tendenze Lo ripeto Per l'ennesima volta Per me La Russia Andrebbe vista Sarebbe bello Poterla raccontare Come un paese Qualunque Non L'angelo O il demone Perché È un Come si dice Bias Cioè Il fatto Di Vedere Quel paese Per partito preso Come un paese buono O un paese cattivo Ti Induce A non vederlo Per com'è Realmente Nella sua quotidianità E la stessa cosa Vale per l'Italia Secondo me Perché tutti quelli Che io ho conosciuto Anche i russi Anche i miei studenti No Ah no L'Italia L'Europa Ah fantastico Fantastico All'estero Per i russi All'estero È tutto meglio Necessariamente meglio Ma poi dopo Che si sono trasferiti Dopo uno Due Tre anni Si rendono conto Che non è proprio Tutto meglio Come se lo immaginavano loro Che in tanto Rispetto a tante cose Hanno delle difficoltà Che ci sono tante cose Anche all'estero Che possono non piacere Eh ma questa cosa È normale però Non è che sto dicendo Che l'Italia fa schifo Non bisogna tornare in Italia No però È normale Io sono tornata Sapendo che Qui avrò delle difficoltà Di altro tipo Specialmente perché Sono 12 anni Che Manco Cioè vengo solo in vacanza Quindi vedremo Allora Ho preparato Delle domande Quinta domanda Che Che Voglio che sia prima Allora Tu Hai detto Una Centinaia di volte Che Hai visto 12 anni In Russia E La domanda è Questa esperienza Di Lasciare Il tuo paese Vivere 12 anni Nel terzo mondo Perché cavolo Ti è servita È una domanda Che mi pongo Spesso anche io Perché sto vivendo Una specie di crisi Di mezza età Se mi volete Per la pubblicità Di un antirughe Sono disponibile Prima Prima e dopo Mi pongo spesso Questa domanda Perché A volte ho la sensazione Di Avere adesso 20 anni E cominciare Tutto da capo E Mi domando Veramente Ma Ma perché E vedo Nella mia Immaginazione Almeno Tre o quattro Vite parallele Che avrei potuto fare Se non fossi Andata in Russia Quelle vite parallele Per qualche motivo Spesso mi sembrano Anche migliori Anche se Quando poi Mi soffermo A razionalizzare Perché L'immaginazione Anche Tende a farti vedere Le cose In modo alterato Magari In quelle altre vite C'è una Sydney C'è una Sydney Che sta immaginando Me Che sono andata in Russia E vede Questa vita Come migliore Di quell'altra lì Quindi A che cosa Mi è servito Senza fare Filosofia Proprio da un punto Di vista Pratico Che cosa ho io Che cosa mi porto In Italia Dopo 12 anni Di Russia Io mi porto Un enorme bagaglio Di esperienza Di vita Fuori Dall'Italia Ma non In Europa E non Negli Stati Uniti Cioè Non In tutti quei paesi Dove Per un italiano Sarebbe Relativamente Più semplice Adattarsi Che in Russia E relativamente Più comodo Vivere Se io Non 12 Ma circa 16 anni fa Fossi rimasta In Inghilterra Prima della Brexit Probabilmente A quest'ora Io sarei Cittadina inglese È possibile Che io vivrei lì Avrei un mare di vantaggi Da tutto questo Ma posso dirti Con certezza Che Adattarmi In Inghilterra E vivere La vita Che avrei fatto In Inghilterra Cominciando 16 A 7 anni fa Sarebbe stato Molto più semplice Che vivere In Russia Ora Io non dico Che Ah sono Ganza Perché mi sono Complicata la vita No Diciamo che Con la vecchiaia Sto imparando Che forse ogni tanto È meglio La vita Semplificarsela Però Però Questa cosa Io la so Perché ho vissuto In Russia E tante cose Che io capisco Oggi Di chi Io sono E di Come Posso funzionare A livello personale A livello professionale Io le ho imparate Lì E avrei Una Etica del lavoro Una Percezione Di chi sono io A livello professionale Completamente Diversa Se io non avessi Vissuto in Russia Seconda cosa Seconda cosa Io Mi porto 12 anni Di lingua Russa Io sono partita Per la Russia Con il russo Che avevo studiato All'università Che è un russo Che mi sarebbe potuto Servire Se avessi fatto Una carriera accademica Come io Pensavo All'epoca Di fare O che Mi sarebbe potuto Servire Ma l'avrei dovuto Continuare A migliorare Ci avrei messo Tantissimi sforzi Tantissimo tempo Lavorando E Ma per lavorare bene Nei campi Nei quali interessa A me Lavorare Devi avere già Un buon livello Della lingua È un livello Che io non avevo Io adesso Ho un livello Della lingua Che mi consente Anche se ogni tanto Faccio degli errori Ma anche spesso Però mi consente Di fare Tutto Con quella lingua Ma veramente Qualsiasi cosa Io voglia fare Con quella lingua Lo posso fare E io lo devo A questi 12 anni Di Russia E A che cos'altro Mi è servita Questa esperienza Che per me Non è solo Un'esperienza Perché l'esperienza È quando fai l'erasmus 12 anni È una vita Io capisco Il mondo In cui Mi trovo Oggi Nel modo In cui Lo capisco Perché Ho vissuto In Russia Se Io Avessi Continuato A vivere In Italia O avessi Vissuto In Inghilterra Per tutti Questi anni In questo momento La mia percezione Del mondo Da quella parte E da questa parte Sarebbe Completamente Diversa Io sono Molto grata Alla Russia Per avermi Insegnato In questi 12 anni A vedere Le sfumature Che spesso Chi rimane a vivere Fermo qui Dove Per carità È tutto bellissimo Cioè guardatevi Intorno È bellissimo Ma È bellissimo Ma È un bellissimo Piatto È un bellissimo Senza chiari scuri Io sono Molto grata Alla Russia Di avermi Insegnato Veramente A capire La differenza Perché è facile Dire io vado All'estero Conosco la differenza E poi vai In Germania Dove sì Parlare un'altra lingua Dove hanno Una cultura Leggermente diversa Dalla nostra Ma non Poi Così diversa Ma non Poi Così lontana Andare In un altro paese Dove Non si tratta Soltanto Di imparare Una lingua diversa Ma si tratta Di imparare Un modo diverso Di vedere La vita Un modo diverso Di concepire L'arredamento Di concepire La casa Di concepire Il senso Del perché stiamo al mondo Di concepire La politica Questa è un'esperienza Impagabile E io sarei Una persona diversa Senza questi 12 anni Di Russia Quindi io Anche se penso Che avrei potuto fare Anche altre 4-5 vite Parallele Io non mi posso Pentire di questi 12 anni Perché significherebbe Dove buttare nel gabinetto Un terzo Della mia vita Fino ad oggi Che è Una bella Fetta Cosa Sentivi Mentre Ci stavamo preparando Per partire Sì Impazienza Perché poi io Comunque Sono mancata Dall'Italia Per tanto tempo Io prima della pandemia Venivo in Italia Due o tre volte l'anno Mi sarebbe anche piaciuto Viaggiare in altri posti Però Davo sempre la priorità Alla mia famiglia Di origine Invece dopo la pandemia Io prima sono mancata Per due anni Poi Sono venuta Per presentare Toscio Ai miei genitori No Poi sono venuta Una volta Ok Da sola Poi l'anno dopo Per presentare Toscio Ai miei genitori E Poi sono Passata Una volta Un paio di volte Così Per lavoro Ho fatto giusto Un salto Per salutare i miei E Dopodiché Sono venuta Adesso Cioè La settimana scorsa E Quindi A me Mancava molto Poter Venire E stare un po' E Poi Da Mosca Il mare è molto lontano A me manca sempre molto il mare Io Quando non potevo andare in Italia Andavo al mare In altri posti Io sono stata In Crimea Sono stata A Kaliningrad Sono stata In altri posti Dove potevo fare il bagno In Russia Però Adesso Con la situazione che c'è Non so se questa preoccupazione Fosse fondata o no Però per esempio Toscio non aveva molta voglia Di viaggiare in giro per la Russia Dovendo prendere un aereo Con una bambina piccola Farti tre giorni di treno Per andare in un posto Non è poi Una cosa molto comoda E a me mancava molto Poter avere questo clima Poter avere il mare vicino E E poi In pazienza Anche perché Sai Quando un cerotto Deve essere tolto Quando ti tolgono i punti Devono fare presto Non è che tu puoi tirare Così no Pure quando ti fai la ceretta Lo strappo Deve essere deciso Non è che tu puoi fare così Così Ti lasci un sacco di lividi E senti molto dolore Perché comunque Anche Per me separarmi da Mosca È comunque stata un'esperienza A suo modo Anche dolorosa E penso anche per te comunque Perché Non è che tu Dici Ah mi fa tutto schifo Mi fa tutto schifo Non ho nessuno a Mosca Tu hai la tua famiglia I tuoi genitori Io ho amici Ricordi Voglio dire Abitudini Ecco E Era già doloroso così Per me Negli ultimi anni Vedere Mosca Trasformarsi In un mondo Più chiuso Di quello che io ho incontrato Quando sono arrivata 12 anni fa Perché 12 anni fa Io ho incontrato Una Città E un mondo Che era Era vibrante E si stava aprendo A noi Al mondo Dove avevo vissuto io E Già così era doloroso Verla trasformarsi Poi doverla Lasciare Questa città Per me è stato doloroso Anche perché Forse è anche un periodo Della vita così No? Io ho avuto L'anno scorso Una bambina Ho un marito Adesso E Questo trasferimento È anche stato Un modo Di Improvvisamente Tirare fuori dagli scatoloni Tutte le cose vecchie E fare un punto No? Chi sono stata Fino ad ora In chi mi sono trasformata Adesso Che cosa lascio Perché poi Per crescere Per trasformarsi E per rimanere Secondo me Anche giovani Bisogna Spogliarsi Le vecchiume E avere anche il coraggio Di lasciare Delle cose Vecchie Alle spalle In generale Per chi sta ancora in Russia Gli stranieri Dico Oppure anche i russi Che sono aperti A cercare altre possibilità Per loro Quali sarebbero Le ragioni Per lasciare il paese? Se devo essere sincera Io per uno straniero Non vedo ragioni Per lasciare il paese Se sei straniero Anche se hai la cittadinanza russa A meno che tu non sia un uomo Ecco Però Don Hai risposto la domanda Grazie Cioè Se tipo Se tu non hai intenzione Di combattere Questa guerra Da parte Della parte della Russia O da qualsiasi parte Non hai intenzione Di combattere nessuna guerra Secondo me Se sei straniero Non ti conviene Se sei straniero o uomo Non ti conviene rimanere in Russia Però posso dire che Per una donna Straniera Anche come me Con cittadinanza russa Rimanere in Russia In questo momento Può anche essere Una cosa molto vantaggiosa Professionalmente In questo momento Siccome gli stranieri Molti se ne vanno Siccome ci sono sempre Meno contatti Con l'estero Come c'erano prima Culturali Almeno con l'estero Con l'occidente E Per uno straniero È conveniente Rimanere in Russia Perché siamo più richiesti Cioè io ultimamente Ho cominciato ad avere Più richieste Di lavoro E mi stanno arrivando Anche richieste Di lavoro online Secondo me Conviene professionalmente Quello che non conviene È che se ti pagano i rubli Il rublo Su dieci anni Che precipita E quindi Ho lavori Bene E guadagni bene In modo che Cambiando in euro È della convenienza Perché altrimenti Altrimenti no Cioè lavori Bene per vivere lì Ma quei soldi Poi quando li porti qui Non valgono nulla Non conviene Per i russi Ma perché non conviene Io posso dire Che ultimamente E non so Se questa paura Fosse giustificata Ho cominciato ad avere Un po' di timore Di dire delle cose Di esprimermi Mi hanno sempre detto Ah ma tu vivi in Russia Ma come fai Non ti senti libera Ti senti libera Non ti senti libera Di esprimerti Io non è che mi vado A esprimere Su piazze pubbliche Ma io nemmeno in Italia Mi sono mai Espressa così tanto Pubblicamente Su certi temi Perché non ne ho visto La necessità Qui come non ne vedevo La necessità lì Quindi Io in Russia Mi sono sempre fatta La mia vita Dice sì ma è normale Che se ti fai i fatti tuoi Non ti toccano Però posso dire anche Che non ho mai avuto paura Non so Io non scendevo in piazza A protestare Però quando si parlava Con gli amici In un pub Io non avevo paura Di dire a un amico A un conoscente Ah non sono d'accordo con te La penso così così Però ultimamente Mi dicevano Mi diceva lui Mi dicevano altre persone Che ha incominciato Ad andare di moda Il danos Delazione Mi è venuto in mente Cioè adesso comincia Mi dicono eh Io non lo so Perché non ho Nessuna persona vicina a me Che sia stata vittima Di delazione Però dico Ci sono molti delatori Che se tu ti esprimi Contro la situazione corrente Puoi andare nei guai E io vabbè Non è che poi Voglio dire Io non è che sia una festaiola Che E comunque si sa che Pur essendo festaiolo Ma è proprio nella mia etica Anche io Non so in Italia Non è che se io vado A un evento pubblico Mi metto a raccontare A tutti quanti Le mie opinioni Perché poi La libertà di esprimersi Non significa Che tu devi per forza Dirle le tue opinioni Significa che tu le puoi avere Significa anche Che tu puoi decidere Di esprimerle O di non esprimerle Io spesso decido Di non esprimerle Le mie opinioni Magari le esprimo Con una cerchia di persone Delle quali Mi fido Perché mi trovo più a mio agio Così Quindi Non è che Però Pure facendo i video Su Youtube Che io comunque Faccio in italiano Mi sono incominciata A fare delle domande Mi sono detta Ma Sto correndo Un rischio io Finora penso comunque Cioè Io per tre quarti Penso comunque che No Non stavo Non credo Che io stessi Correndo Un grave rischio Se avete paura Magari Mi conviene Andarmene Però Mi sembra una ragione Un po' insufficiente A meno che Non siete già Perseguitati Non vedo la ragione Io comunque Vedrei Un paio di ragioni Perché Sì per noi uomini La vita È sempre stata Molto più pericolosa Perché Non si sa mai Quando Ti pigliano i poliziotti Ti Ti vedono il passaporto E E poi Magari ti arriva La cosiddetta Lettera della felicità Che dice che Hai un debito Alla tua patria Chissà perché Così si chiama E adesso Anche se Prima Dal 2008 C'erano Meno persone Che avevano paura Di andare All'esercito Perché La guerra Non c'era Quindi E Starci un anno Non è così difficile Per la vita Per l'istruzione Per il lavoro Che due anni Che C'erano prima Comunque adesso È più pericoloso Perché C'è una situazione Un po' più Differente Quindi non si sa mai Quando Quando sta in pericolo Perciò Per Noi Ragazzi La vita È un po' più dura In Russia Quindi non si sa mai Se Se viene un poliziotto Se Ti controlli Il telefonino Che si Ti sta leggendo È preoccupante anche Per le mogli Di questi uomini Diciamo Una delle ragioni Che non ho menzionato Perché Per le famiglie In generale Perché Per me Vedere mio marito Così preoccupato A un certo punto Dico Ma Se devi vivere Così preoccupato Andiamocene Perché io Non ti posso Vedere così preoccupato Io non posso Essere così preoccupata Perché Io pure Sono preoccupata Ah sì Una Una Spiegazione Che Dobbiamo Darvi Visto Che Podcast Normalmente Sono Sono Questi istanti Quando Youtuber Spiegano Un po' Le cose E parlano Senza Uno Senza Uno Script Noi Pubblicheremo Più Video Fatti A Mosca Perché Perché Abbiamo Girato Parecchio C'è Anche Un'altra Rubrica Che Vogliamo Dimostrare A voi Quindi Non sorprendetevi Come mai Adesso Stiamo Facendo Un Podcast Con Uno Sfondo Anche Se Non Si Vede Troppo Ma Vi Posso Dire Che È Bello Se Giriamo La Camera Qua È Bellissimo Comunque Abbiamo Girato Parecchio Specialmente Negli ultimi Due Mesi Non Possiamo Fare A meno Di Pubblicare Questi Video Quindi Non Sorprendetevi Tecnicamente È Possibile Anche Se Stiamo Qua Vi Mostriamo Un Altro Vi Mostriamo Più Materiale Girato In Russia Io ci tenevo a precisare in questo podcast Il fatto che siamo venuti in Italia non significa che improvvisamente la rubrica russaliana muore La rubrica russaliana che una volta era un blog è morta tristemente per colpa mia già nel 2018 E io penso che non debba morire proprio perché come dicevo che cosa ci ho guadagnato io in 12 anni di Russia In 12 anni di Russia io ci ho guadagnato russaliana che è un intero personaggio È una mole di cose da raccontare di sapere da condividere e quindi io sto pensando in questo momento a che cosa offrirvi nelle membership Visto che è una facciamo dei tipi è una delle mie skills questo fatto della Russia ma non l'unica mia abilità Comunque stay tuned perché ci saranno ancora materiali sulla Russia almeno una volta al mese Cioè noi abbiamo registrato materiale per un anno intero e ci sono tante altre cose che possiamo girare qui per parlarvi della Russia E mi sto organizzando appunto su cosa proporvi nelle membership perché potrebbe esserci qualche altra cosa di interessante sul mondo russo visto in questa maniera umana Un lunedì siamo partiti dalla casa di miei genitori perché l'ultima settimana l'abbiamo passato là con la bimba In mezzo a tutti i bagagli che avevamo E siamo partiti per l'aeroporto perché stavamo in un appartamento in affitto che faceva schifo Specialmente Era dignitoso per gli standard russi Ma comunque gli scarafaggi ci facevano schifo la qualità degli attrezzi che stavano là faceva schifo I mobili Sì mobili tutte altre cose che c'erano di bassa qualità tutto di plastico Ma io grazie Khrushchevka che mi ha ospitato nel mio ultimo anno in Russia e nella quale io sono tornata dall'ospedale con la mia bambina in braccio Grazie di averci ospitati E grazie alla Voska che stava dietro l'angolo Supermercato Sì 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 una rete di supermercati Quindi siamo partiti per questo aeroporto E qualche ora dopo abbiamo preso un Airbus 330 Perché A me invece frega Tre o quattro ore dopo Si è atterrato a Istanbul E il problema era Che abbiamo scelto i bilietti con uno scalo molto corto Di solo un'ora E Io avrei dovuto dire No Avremmo dovuto comprare altri bilietti Perché quindi la vita mi ha dato già delle lezioni Abbiamo una bambina che non ha ancora fatto un anno E se avessimo fatto uno scalo di 6-7 ore ci saremmo sparati Comunque Comunque Una volta mi è successo che io facevo uno scalo molto corto all'aeroporto di Amsterdam Uno dei maggiori in Europa E la KLM che è una compagnia fantastica Ha perso i miei bagagli Oppure tecnicamente non sono stati loro Ma l'aeroporto che ha la responsabilità Quindi se avete perso un bagaglio Mi dispiace E non dovete indignarsi alla compagnia aerea E' la colpa dell'aeroporto E l'aeroporto a Istanbul E' enorme E' proprio enorme E quindi ho capito già che C'è una possibilità Che le nostre valigie non arrivino A Napoli Allora comunque Non abbiamo perso l'aereo Abbiamo preso questa volta un 737-800 New Generation E finalmente siamo andati all'aeroporto di Capodichino Che è a Napoli Questo è un commento breve per i nostri amici milanesi Se non sapete dove è Napoli E' nel sud Sono terrona Poi siamo scesi L'aeroporto ci ha ospitato bene Tutti sorridevano E stavano parlando con la nostra bimba Ah guardia com'è bella Com'è bella Tutti la salutavano E anche lei salutava tutti Così con la manina Così Era felice Comunque Le valigie non sono arrivate Quel giorno Quindi abbiamo passato Tre giorni No Altra oretta Sì Poi siamo andati all'ufficio Bagali Ci hanno dato una lettera Poi sono cominciati i guai Perché il giorno dopo Abbiamo chiamato questo ufficio Nessuno rispondeva Poi abbiamo chiamato i Turkish Airlines Io ho fatto rintracciare Due valigie Che Ma avevano confirmato Che stavano ancora a Istanbul E Sua terza valigia Questo dipendente mi ha detto Ah no The other bag Is still under investigation What the fuck Ma di che indagine sta parlando Mi scusi Che indagine Non siamo Mica stiamo portando Droghe o alcol Mi sa che Aveva scelto una parola sbagliata Processing Che non è Che non è Indagine Il giorno dopo Anche se Non ho fatto rintracciare Tramite l'internet Tramite il sito dei Turkish La terza valigia Ho chiesto Il mio suocero Che Che mi porti a Capodichino Quindi Sono andato là Mi sono riunito Con 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 Piuttosto Che Avevano perso I loro bagali Pure Quindi Per la prima volta Nella mia vita Che ho capito Già che Questa esperienza Per me È davvero speciale Mi hanno fatto Entrare Nell'area Riservata Per gli impiegati Dell'aeroporto Quindi mi hanno fatto Un security check Qualcosa stava suonando Anche se non avevo chiavi Ho messo fuori Il telefonino Tutto Qualcosa stava suonando Comunque mi hanno fatto Entrare lo stesso Poi Questo dipendente Ha preso I nostri passaporti Per qualche ragione E Ci ha accompagnato A un deposito Delle Valigie Non Richiamate E Le nostre valigie Non ci stavano E L'ansia Si è già aumentata Fino a tachicardia Poi Comunque Mi ha detto Non si preoccupi Signore C'è un altro deposito E poi Siamo scesi giù Al piano sotterraneo Di Capodichino Che Pareva un po' Backrooms E per fortuna Tutte Tutte e tre valigie Stavano là Dovuto a una decina Di adesivi Sulle nostre valigie È stato un po' Difficile Verificare Che erano nostre Anche se Io lo sapevo Perché io Conosco L'aspetto Delle nostre valigie Comunque Per verificare Il nome Era un po' Difficile Perché i turchi Non avevano fatto Un buon lavoro Con queste etichette Comunque Si La storia È finita bene Finalmente E poi Ho dovuto Aspettare Altre Altri Tipo 20 minuti Per Per tutto questo Paperwork Che mi hanno fatto Poi un impiegato Mi ha chiesto A qualcosa De dichiarare E ho risposto Che io sappia No Mi scusi Ma cosa vuol dire Che io sappia No Sta portando alcol Droghe Sigarette E ho detto No Sto portando un po' Di cocaina Ne vuoi un po' Io non ho mai capito La domanda Qualcosa da dichiarare Secondo me Nessuno Voglia di dichiarare Niente No Comunque Poi Ti possono far Aprire Il bagaglio Perché loro Hanno questo diritto E se porti qualcosa Che devi dichiarare Perché ci sono Anche dei limiti Se porti alcol C'è un limite Se porti delle sigarette Visto che Vieni da un paese Extracomunitario C'è un limite Di 20 pacchi Se porti 21 22 Ti fanno pagare Una multa E' una domanda Per te Extracomunitario Sì Io sto qui Illegale Voglio lavorare Illegale In Europa Io ho un marito Ho un marito migrante Tu hai ritenuto Opportuno raccontare Tutta questa epopea Del bagaglio Ma secondo me Andava raccontato Che cosa abbiamo fatto Negli ultimi Dieci giorni Di permanenza In Italia Per fare in modo Che tu ottenessi La ricevuta Dell'istanza Di richiesta Di permesso Di soggiorno Perché quella È la cosa più importante Ed è stato Il tuo primo Assaggio Di cultura E Burocrazia Italiana Che in qualche modo Non differisce Dalla burocrazia russa In un piccolo paese Ma anche Delle sue specificità Squisitamente Partenopee Ci dica Come valuterebbe Da uno A cinque I servizi Del comune Della città In cui ci troviamo Della quale Non facciamo nome Va bene Dico così Ovunque sia Uno stato C'è sempre burocrazia E sempre fa schifo Per voi che In Inghilterra no Non fa schifo Per la mia esperienza no E va bene Va bene Ah Ci stavi prima Di Brexit Quindi qualcosa Avrebbe dovuto cambiare Poi comunque Ho sentito storie Dalle persone Dall'inglesi E dagli stranieri Che hanno vissuto Nel Regno Unito Che Pure da allora La burocrazia È difficile È sempre lenta Ho sentito parlare Le stesse cose Degli Stati Uniti Quindi io Adesso ho un'idea Che ovunque Ci sia uno stato La burocrazia È sempre difficile Quindi io Non avevo Illusioni Che qua In Per quel che riguarda La burocrazia I documenti La legalizzazione Tutto sarebbe Molto facile Allora In breve Avevo bisogno Di una lettera Di ospitalità E il secondo giorno Della mia permanenza In Italia Siamo andati All'ufficio Delle polizie Municipali E ci hanno detto Ci hanno dato Questo formulario Della lettera Di ospitalità Comunque Alla bambina Perché è tutto un casino Perché mi è scaduta La patente Mentre ero in Russia Non la posso rinnovare Perché non sono residente Ok E quindi già che c'era Ho detto Ma cosa dobbiamo fare Per mettere la residenza A lui Perché lui deve chiedere Il permesso Dice no Ma forse è bisogno Di una lettera Di ospitalità E noi andiamo Alla polizia La cosa assurda Non è che Solo che loro Non ci hanno detto Che dovevamo Consegnarla Entro 48 ore Ma che Questo ci guarda E fa Eh ma non lo so Ma Non penso Che vi serve Ma mica lui È un immigrato Clandestino È il tuo marito Ce ne stanno tanti Che vengono così Sui barconi Ma Ma tu vedi Mo te la do Se puoi proprio Ti serve Ritorni E ce la dai Ma Ma tu Sei sicura Che lui lo può avere Il permesso di soggiorno Polizia municipale Sei sicura Che lui può avere Il permesso di soggiorno Quello dell'anagrafe Ti ha detto Che lo può avere Come se fosse Di competenza Dell'anagrafe Sapere Che il permesso Di soggiorno Gli serve A mio marito Io sono allucinata Allora Risulta che Avevamo potuto Compilare Questa lettera Proprio là E Avevo dovuto Compilare La cosa là E C'è C'è una C'è una nota Su questa lettera Su questa lettera Che dice Che se uno Non lo fa Entro 48 ore Anche se Sei un coniuge Sei un parente Extracomunitario Ci deve essere Una multa Tra 160 e 1.100 euro Quindi Mi è venuta più ansia Comunque Comunque Poi una settimana dopo Io e il mio suocero Siamo Siamo tornati A questo ufficio Perché una settimana dopo? Beh c'è mozzarella C'è prosciutto Stavo rilassato Non è quella la ragione È passata una settimana Perché Ci abbiamo messo Una settimana A reperire Tutte le informazioni Necessarie Ma anche Essere sbattuti Anche essere sbattuti Da un ufficio All'altro Perché Siamo andati a chiedere Da questo Questo Già mi sono dimenticata Tutta la trafila Comunque Noi casualmente Alcuni giorni dopo Abbiamo scoperto Che la lettera Di ospitalità Andava consegnata Entro 48 ore L'abbiamo scoperto Assolutamente Per caso E in quella settimana Noi siamo stati sbattuti Avanti e indietro E tra l'altro Ci sono cose Che se tu Hai mancato di fare Non le puoi fare Il giorno dopo Perché per esempio Nella mia città L'ufficio anagrafe È aperto Tre giorni a settimana Due volte per tre ore Una volta per due ore Quindi per esempio Oggi e domani L'ufficio anagrafe Nella mia città È chiuso Se io dovevo fare Una cosa urgente E avevo una scadenza Sì Buonanotte E molte cose funzionano così Ci hanno mandato Nella capoluogo più vicino E poi dal capoluogo più vicino Ci hanno mandato indietro Cioè se non c'era Santo mio padre Che ci accompagnava Con la macchina Perché io in questo momento Sto senza patente Io non so Un immigrato normale Che arriva qua Senza niente Come faceva Spostarsi A districarsi Tra lingua Uffici che stanno sempre chiusi Impiegati che si vanno A prendere il caffè E informazioni che non si capiscono Perché stessi il poliziotto Ti dice Non lo so Se proprio Da vuoi fare La lettera di ospitalità E ritorna Quando c'è il tempo Perciò Non ho visto Eh sì In questa città Dove siamo adesso Io non ho visto Delle immigrate Ah no Ho visto ieri Due ragazzi immigrati All'ufficio postale Che mi hanno chiesto Tu sai come si compila Questo 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 bollettino E io ho risposto Onestamente Ragazzi Non vi posso aiutare Magari andate a questo caff Chiedete se c'è Paolo Vi aiuta Perché io Non prendo Questa Responsabilità Eh sì Dovrebbe cambiare il nome Perché caff patronato Questo qua Questo qua No Caff Paolo Così si capisce Che sta Che è lui E ti aiuta No ma Sul serio Sul serio Allora Comunque la storia Con Con questa lettera Almeno È finita bene Perché non ci hanno multato Questo poliziotto Non ci ha detto niente Quindi mi hanno M'hanno dato Le lettere Che avevo bisogno Per la domanda Per il permesso Di soggiorno Già Tutto timbrato Io ho riportato Tutto All'ufficio postale Poi vediamo Poi vediamo Come Come finisce Questa storia Comunque speriamo bene Allora finiamo qua Finisce che avrai Permesso di soggiorno Solo così può finire Non è che in facoltativo Marito di italiana Padre di cittadina italiana E va bene Speriamo bene Con Questo discorso Della burocrazia E di questo Tran tran Di avanti e indietro Abbiamo fatto felici I nostri Iscritti Putiniani Vedete che Italia È un paese Fallito E perché non avete visto La Tiotuska Che è dietro La Akoska Quando finisce Alle poste italiane Se la posta Chiude alle 12 e mezza E tu entri Alle 12 e 25 Loro ti servono Anche dopo Le 12 e mezza Alle 12 e mezza Non fanno più Entrare nessuno Ma se vai In Russia Dove c'è La Koska La Koska Sarebbe Lo sportello E c'è la Tiotuska Dietro la Koska Cioè La La signora Diciamo E tu L'ufficio chiude Alle 12 e mezza E tu ti presenti Là Alle 12 e 25 Lei ti comincia A servire Ma appena Scattano Alle 12 e 30 Puc Chiude Lo sportello E se ne va A me è successo Questo Quando io chiedevo Il permesso di soggiorno Quando io ho chiesto Il permesso di soggiorno Sono rimasta scioccata Stava parlando con me A un certo punto fa L'orario è finito Puc Finito E ho pensato Ma sei pazza sei Io Voi che Volete trasferirsi In Russia E se ci troverete A lavoro Vi pagheranno In nero Quindi non avete Bisogno di questa Informazione Comunque Comunque Adesso 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 è tutto Piuttosto in nero Allora Minimo grigio In bianco Nessuno Nessuno di voi Sarà pagato in bianco Questo ve lo garantisco Allora Io ho lavorato Ho lavorato in Russia Sempre in grigio Sì In nero Vabbè Da sola Ma in bianco Avrei potuto lavorare Se avessi lavorato In qualche altra azienda Cioè non dico così Dipende dove lavorano Adesso anche Anche ai russi Le compagnie russe Non pagano in bianco È sempre grigio Perché Se poi firmi un contratto Che riceve 20.000 rubli Al mese O il minimo stipendio Poi ti pagano di più Ma questo è già Vuol dire Uno schema grigio Allora Io quando Ero un imprenditore Indipendente Io pagavo le tasse E Andare a un ufficio Di naloga L'agenzia delle entrate Non si fanno le domande Solo si può presentare Se devi dare Se devi dare Un documento a loro Il servizio è così Cioè 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 Le domande Non si fanno Perciò Si va a un'organizzazione privata Che può rispondere Le domande E Sì Ci sono Una decina Presso Un ufficio Di queste aziende Allora Così si fa Comunque Speriamo bene Mi sto godendo Questa esperienza Fino adesso E speriamo che Vada tutto bene Rimanete in contatto Con noi Non perdeteci Di vista Perché Continueremo a pubblicare Materiali Sulla Russia Informazioni Sulla lingua russa E sulla cultura russa Continueremo a raccontare Della mia vita Di Nuova russa Che è rientrata In Italia Quindi racconteremo Un po' questo rientro Dei cervelli Rientro Del cervello E Ci sono No tu non rientri Tu sei venuto Per la prima volta Questa è un'importazione Di cervello E poi ci sono Un mare di altre cose Oltre alla Russia Che io Ho sempre desiderato Raccontare Su questo canale Ma non ho mai avuto Tempo di farlo Perché Lavoravo Come un operaio Cinese Soltanto nel settore Della cultura In Russia E Quindi Stay tuned E ci vediamo La prossima volta Con nuove avventure E nuovi commenti Insomma Ci vediamo Come sta la taglia Ci vediamo La prossima volta Da questa Verdelanda Ciao